Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Kingslave Corporation e oggi benvenuti in questo spettacolare video di Fortnite perché oggi sarà un giorno speciale per il semplice fatto che oltre che allaggare di brutto acquisteremo il nuovo costume di Spider-Man su Fortnite quindi ragazzi preparatevi perché oggi sarà una partita eccezionale ecco qui signori, siamo di fronte alla schermata di Spider-Man ricarica V-Bucks vanno bene, sì così mi fa risparmiare anche i soldi signori, 3, 2, 1, acquista e lo abbiamo finalmente acquistato ragazzi e io direi di andarlo a metterlo immediatamente, subito eccolo qua modifica il costume? assolutamente preferisco in tuta rossa, sì mascherato sì, già l'ho scelto, lo so e c'è anche il nostro cover posso mettere anche il coso di Iron Man, che figo però andiamo a mettere il nostro caro zainetto a forma di Spider-Man salviamo nell'equipaggiamento Kingslave eccoci qui signori ah, finalmente speriamo di fare una bella partita siamo sempre in 3, è ovvio la sfiga ci perseguita ma abbiamo la skin di Spider-Man signori e nessuno ci fermerà dobbiamo essere pronti a tutto signori e signori non possiamo perdere niente se troviamo anche il potere di Spider-Man non sarebbe male, eh ragazzuoli prendiamo subito le armi, quello che ci servono quello che ci occorrono per sopravvivere shieldini anche direi che deve aver fatto un bel casino ok ho messo un danno da caduta questo non è male come potenziamento anche se questo non sarebbe male come arma quello se me lo lascio a me oppure questo va bene accetto una taglia 100% va bene vieni, vieni, bello e vieni ah vado, ok vieni, vieni, vieni ah c'è l'ho ah c'è l'ho stavolta no, il cecchino, raga oggi non mi va di usare il cecchino però se lo trovo perché no non mi va di usare il caso of Grazie a tutti Sinceramente ho un po' di paura Però Questo non mi ferma Era ovvio che quello giallo L'avesse eliminato qualcuno Ok weird va bene Ok un po' di munizia Non fa male a nessuno Ripeto però vorrei il cecchino Cioè oggi no però E' lui che mi lascia solo Perfetto Ah facciamo così allora Ok Ma oggi c'è problemi di lag oggi Dai metti in primo piano Così almeno smetterò di rompere i coglioni Sai sono spade me anch'io eh Se avessi un buon cecchino qui La voglia di Sì però non cazzeggiare Ti prego dimmi Che è un cecchino Oletta sei andato a fare in culo Oh Ma che c'era dei problemi di connessione oggi Raga scusate però Non è colpa mia Lì c'è qualcosa di viola Che cos'è? Oh 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 Vatteni via Vatteni via Vatteni via Mannaggia C'ho paura che mi arrivi Una cecchinata qua Mi dispiace compà Ha fatto il coglione Con Spider-Man Con Spider-Man Ehm Oh Fratelli Oh 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 basta Ma che cos'è? Ma cosa? Ma da dove mi ha preso? No raga Ma sono cheat Dai Che fregatura Che fregatura Eccoci qua ragazzuoli Un'altra volta In campo di battaglia Siamo in quattro stavolta Tanto ognuno fa i cazzi suoi Era ovvio Bene Visto come si fa? Vabbè andiamo a scoprire nuove isole va Probabilmente hai notato la nuova statua Tra parentesi No comment ma mi sembra un lavoro fatto a risparmio Devi scoprire chi continua a vandalizzarla Io sospetto dei looper Specialmente i tizi banana Grazie Ottima idea piazzare la telecamera ad altezza banana Wow Guarda che effetto di luce Non sarà una buona giornata Sarà eccezionale Non sarà una buona giornata Non sarà una buona giornata No Fai Che fai Non sarà una buona giornata Anche prima ma tu corri veloce però E fu così che i miei compagni e i figli di puttana mi lasciano nella merda grazie ragazzi Grazie a tutti